Ciao a tutti. La questione del trasferimento di carri armati stranieri a Kiev non è stata risolta in una riunione dei capi dei Dipartimenti della Difesa degli Stati Uniti, Paul Lloyd Austin, con il suo collega della Germania, Boris Pistorius. Secondo gli interlocutori, nonostante la campagna di pressione condotta da Austin in privato, la questione della fornitura di carri armati rimane irrisolta, alla vigilia della riunione dei Ministri della Difesa Occidentali, presso la base aerea americana di Ramstein, in Germania. Fonti dell'emittente ritengono che Berlino difficilmente cambierà la sua posizione su questo tema. Allo stesso tempo, diversi alti rappresentanti dell'amministrazione del presidente Joe Biden esprimono insoddisfazione per la posizione del governo tedesco. Nei giorni scorsi, i funzionari tedeschi hanno dichiarato che non avrebbero inviato i loro carri armati Leopard, in Ucraina, e non avrebbero permesso a nessun altro paese con carri armati di fabbricazione tedesca di farlo, a meno che anche gli Stati Uniti non accettassero di inviare i loro carri armati, M1 Abrams a Chievi. Allo stesso tempo, il canale televisivo ricorda che il Pentagono ha detto per diversi mesi che non lo farà, dati i costi logistici per il loro contenuto. Lo scontro tra carri armati si svolge sullo sfondo di un dibattito molto più ampio tra gli Stati Uniti, e i loro alleati europei sull'opportunità di inviare armi sempre più moderne a Chievi, inclusi missili a lungo raggio, che consentirebbero all'Ucraina di colpire obiettivi fino a 200 miglia di distanza, osserva CNN. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.